Musica Cari amici, allora andiamo avanti con la nostra catechesi, con il nostro libro Apostoli di Maria come esercito schierato a battaglia. Cari amici, stiamo facendo il capitolo secondo nel quale vi illustro tutto ciò che dovete sapere sui segreti di Međugorje perché il compito di questo libro è quello di essere, come dire, un libro che vi dà la possibilità attraverso la consultazione anche dei vari capitoli di conoscere tutto quello che bisogna sapere. Ecco, poi ci saranno quelli di approfondimento ma questo è, come dire, proprio una visione globale e anche abbastanza dettagliata su quello che noi sappiamo perché l'ha detto la Madonna in tutti questi anni e siccome la Madonna l'ha detto dobbiamo saperlo. Allora, Cari amici, allora oggi facciamo due capitoletti, parliamo del terzo segreto, i primi due capitoletti sui ieri abbiamo detto che abbiamo fatto i primi due capitoletti che riguardano i Deci Segreti, che riguardano le tematiche dei segreti, il mondo e la Chiesa e adesso facciamo il terzo segreto e poi facciamo la rivelazione al mondo dei segreti tre giorni prima, tutte cose molto importanti. Ovviamente il terzo segreto è particolare perché viene direttamente dal Signore. Tutti gli altri sono provocati o dall'uomo o dalla natura. Allora, quello che la Madonna ha rivelato sui segreti fin dal primo anno e mezzo di apparizioni è un dono straordinario su cui dobbiamo meditare perché siamo arrivati a un momento di svolta. L'ha detto la Madonna, siamo a un momento di svolta. Cioè la Madonna ha arrivato sui segreti tutto già nel primo anno e mezzo praticamente. Poi successivamente nei vari messaggi ha fatto molte allusioni, senza nominare la parola segreti, ma quando avete usato o disuggere la vostra vita e il periodo su quale vivete eccetera, avete rifiutato la fede della croce eccetera. È chiaro che sono tutte tematiche dei segreti. Come sappiamo, i segreti riguardano eventi che accadono in determinati luoghi, sono locali e che verranno rivelati al mondo tre giorni prima. È noto che i primi tre accadranno a Međugorje, cioè i primi due sono eventi della natura che colpiranno a Međugorje, il terzo è un segno sulla collina dell'apparizione a Međugorje. Mentre dei segreti dal quarto al decimo non sappiamo nulla quanto ha luogo. Non sappiamo nulla. Tuttavia, la guerra innescata dalla Russia contro l'Ucraina può essere considerata un indizio che anche i rimanenti eventi, tutti o in parte, potrebbero avere luogo in Europa. Si tratta infatti di una guerra che già ora manifesta le caratteristiche di uno sconto globale, con tutte le conseguenze catastrofiche che ne potrebbero derivare. La Madonna per ben tre volte ci ha monito che Satana vuol distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale viviamo. Non mancano i presupposti perché questo accada. Ci sono anche le minacce di uso di armi nucleari, lo sappiamo. Sappiamo però che l'Europa è per eccellenza il continente di Maria. Come testimone della storia dell'apparizione mariane è quella degli interventi miracolosi con i quali la Madonna ha preservato la fede e la vita dei popoli europei. Ci sono salvati dai turchi, ci sono salvati da tanti. In questo quadro ha un significato straordinario il fatto che il segno del terzo segreto che i veggenti descrivono come bellissimo che vede dal Signore che è indistruttibile e che è durevole ha un significato straordinario che questo segno sia al centro del continente europeo abbracciando tutti i popoli che lo abitano. Cioè praticamente il segno sulla montagna è in Europa, cari amici. a metà fra l'Europa dell'Ovest e l'Europa dell'Est. È un segno di speranza quindi questo ci fa sperare molto. Per quello che io vi ho fatto un editoriale dicendo che non guardando al presente ma al passato l'Europa la Madora potrebbe risparmiare fare intercedere perché sia risparmiata l'Europa. Questo significa che nel tempo dei segreti di Međugorje quindi dal quarto al decimo quando c'è il segno vuol dire che Međugorje diventerà un centro di pellegrinaggi che trasformeranno questa località in una grandiosi di intercessione di speranza e di pace. Però ci sono i primi due non sappiamo cosa resterà di Međugorje dei primi due. Il segno sulla collina infatti è un dono che avrà effetti straordinari sui cuori delle moltitudini di tutto il mondo ma in particolare in Europa. Molti si renderanno conto di quale grazia straordinaria sia la presenza della Madonna in tempi così gravi di conclamità mai avvenute e ritorneranno a credere e a sperare. Grazie al segno molti torneranno alla Chiesa torneranno a Dio. Il segno sulla collina delle prime apparizioni farà di Međugorje il luogo della presenza di Maria che si irradia in tutto il mondo e in particolare sui popoli più colpiti sarà un segno di speranza e di vittoria. In mezzo alle tenebre dei segreti che vanno dal quarto al decimo avremo questa grande luce e questa fonte di acqua pura. La regina della pace non permetterà che Satra distrughi il continente della sua predilezione. Avrà forse delle ferite ma io sono certo che la Madonna non permetterà che Satra distrughi il continente dalla sua predilezione quella della Madonna perché molti paesi dell'Europa l'Italia la Spagna e la Francia sono chiamati paesi di Maria. Per questo dobbiamo guardare a quello che avviene con serenità. Grazie a questo segno a Međugorje al centro dell'Europa Satra non potrà fare di più di quanto Dio permetterà e la Madonna ha un piano di salvezza che in parte conosciamo e che in parte ci verrà svelato a suo tempo come ha detto Viscar. Più di quello che accadrà dobbiamo preoccuparci di noi stessi in modo tale da essere esalti nella fede perseveranti nella preghiera coraggiosi nella testimonianza. Quindi dobbiamo preoccuparci della nostra preparazione. Più andremo avanti persino quando vi sarà il seno predetto la rabbia di Satra e del mondo crescerà ma ci sarà sempre la Regina della Pace a guidarci e a proteggerci fino al trionfo del suo cuore immacolato. Non è certamente un caso che il seno sulla montagna sia collocato al terzo posto prima dei segreti considerati i più drammatici quelli dal quarto al decimo che nelle intenzioni della Madonna potrebbero indicare i sette fragelli dell'Apocalisse dal quarto al decimo sono sette. Innanzitutto bisogna considerare che è l'unico parlo del segno sulla montagna del terzo segreto è l'unico dei dieci che viene dal Signore mentre gli altri sono eventi che provengono dall'uomo direttamente o indirettamente attraverso la natura. Chiaro che la guerra scatenata nei mari potrebbe fare può usare inondazioni spaventose. Per la sua provenienza misteriosa questo seno attirerà l'attenzione mondiale e per le sue caratteristiche sarà un rompicato. Infatti che cosa esiste che sia indistruttibile e durevole fino alla fine del mondo? Il segno provocherà il crollo delle falsità e dei pregiudizi che l'informazione al servizio del falsario solleverà per screvitare il piano di salvezza dalla regia della pace. I duri di cuore non crederanno nonostante il segno ma le persone semplici comprese quelle di altre religioni e persino gli indifferenti e gli sbandati di vario genere saranno attirati da questo segno luminoso. Nel momento più acuto dello scatenamento delle tenebre quando i frageli provocati dagli uomini getteranno l'umanità nei vortici dell'angoscia e della disperazione il segno brillerà nelle tenebre come messaggio di speranza e di salvezza. Voi pensate passiamo attraverso degli eventi dal quarto al decimo che i veggenti stessi sono sbiancati quando li hanno visti durante l'apparizione che la Madonna ha chiamato molte cose terribili il fatto che ci sia questo segno sarà di grande consolazione di grande speranza. Un segno del genere attenzione non è mai apparso nella storia della salvezza non c'è mai indicato niente di simile nella scrittura perché anche quel famoso rovetto arnente è durato lì per lì questo è durevole fino alla fine del mondo. Il fatto che accada per la prima volta significa che siamo entrati nei tempi ultimi e decisivi che porteranno alla venuta di Cristo nella gloria quando il tempo d'Apocresia si compirà. Quindi avete visto cari amici ho fatto un'esposizione chiara bella anche perché ci conforta cari amici tutta basata sulle parole della Madonna. Non ha concesso nulla a nessuno solo le parole della Madonna. Amici andiamo a quello che per me è un mistero da esplorare sempre più è la rivelazione al mondo dei segreti tre giorni prima. Il fatto che ogni segreto di Međugorje venga rivelato tre giorni prima è un don inestimabile del cielo che ci è stato rivelato fin dai primi tempi dell'apparizione ma del quale dobbiamo comprenderne il valore. I tre giorni di preavviso sono stati da molti accostati i tre giorni del triduo pasquale durante i quali si è compiuta la redenzione delle anime mediante la passione di Cristo e la sua gloriosa risurrezione. Il numero tre nella Bibbia ricorre continuamente centinaia di volte in quei giorni la fede degli apostoli è stata messa a dura prova uno di loro ha tradito un atto ha rinnegato la maggior parte è fuggita la fede di ognuno ha vacillato e solo la luce di Maria ha brillato nella tenebra oscura. Allo stesso modo i tre giorni dei segreti di Međugorje hanno il significato di una prova della fede è solo un'occasione straordinaria perché le anime si decidano per la salvezza selgono Cristo e la Madonna infatti in momenti così drammatici soprattutto dal quarto al decimo segreto la nostra vita nel tempo non avrà più l'importanza che siamo soliti darle adesso ci rendremo conto che i nostri castelli di carta crollano uno dopo l'altro e che ci resta ben poco a cui restare abbarbicati in quel momento forse non sarà neppure l'importante cercare sicurezza umane mentre la voce di Dio si farà prepotentemente sentire nell'intimo dei cuori l'interrogativo che riguarda la sorte eterna della nostra anima farà irruzione della nostra vita cioè nel tempo dei segreti cari amici cioè alla fine è quasi normale vedendo quello che accade che l'unica cosa che ci resta veramente l'importante da fare è aprirsi a Dio e salvarsi l'anima per quelli che hanno seguito la Madonna quei tre giorni saranno di trepidazione in attesa che la profezia si realizzi e poi di gioia e di lode quando si sarà realizzata voi pensate quando verrà annunciato il segno tre giorni prima come lo attenderemo per quelli che non credono il fatto che la profezia si realizzi è un invito ad aprire il cuore al Signore che passa di pentirsi dei propri peccati e di affidarsi alla divina misericordia allora comprenderemo il grande valore della libertà che Dio ci ha donato e che noi abbiamo disprezzato e distrutto nel mondo senza Dio che abbiamo costruito in quei giorni come quelli della passione ogni anima sarà visitata perché si decida dinanzi al Bibbio della vita o con Dio o senza Dio per questo i veggenti dicono che i segreti riguardano il mondo e la Chiesa ma soprattutto la Chiesa infatti saremo chiamati a rimanere zaldi della fede aderendo con Maria all'unica vera Chiesa anche col martirio che segue Maria in questi tempi in cui Satana passa al vaglio le anime non ha nulla da temere ma vive la sua vita quotidiana nella pace aiutando la Madonna a portare le anime a Gesù saremo sereni tuttavia non si può escludere che l'annuncio fatto tre giorni prima precisando il momento e la durata dell'evento non si può escludere che abbia un valore di un ancora di salvezza anche per la propria vita cioè voi immaginate quello che è accaduto in Libia qualche giorno fa che sono crollate le dighe se veniva detto tre giorni prima e la gente che ci credeva a questo annuncio si salvava piccolo esempio concreto non si può escludere quindi che ci può anche essere una salvezza della propria vita non solo ci verrà rivelato che cosa accadrà ma pure dove in quanto ogni evento è circoscritto in un luogo preciso anche se la vastità degli effetti sfugge a qualsiasi immaginazione non vi è dubbio che le persone che hanno una preparazione spirituale adeguata e credono alle parole della Madonna valuteranno la possibilità di mettersi al riparo se questo sarà possibile non dobbiamo dimenticare che non sarebbe la prima volta nella storia della salvezza che le profezie di Shagure hanno avuto lo scopo di mettere in salvo le persone questo accaduto nella distruzione di solo Megomorra anticipata da Dio d'Abramo per dargli la possibilità di mettersi in salvo e mettere in salvo il parente Lot con la sua famiglia anche la profezia di Gesù sulla distruzione del tempio di Gerusalemme e dei suoi abitanti ha dato questa profezia la possibilità alla comunità cristiana di salvarsi infatti dopo aver rivelato che la città sarebbe stata circondata Gesù ha invitato a non entrare in città ma a fuggire sulle colline le parole sono queste quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene chi legge capisca allora quelli che si trovano in Giudea fuggano ai monti chi si trova sulla terrazza non scende per entrare a prendere qualcosa dalla sua casa chi è nel campo non torna indietro a prendersi il mantello cioè in poche parole quando arrivarono le legioni romane e assentrano la città i cristiani fuggirono sulle colline e così si salvarono chi entrò in città morirono tutti nessuno eccetto i sei gente conosce gli eventi i luoghi relativi certamente non saranno gli unici avvenimenti che accadranno in quell'arco di tempo ci accadranno anche altre cose ma quelli degli eventi sono sono dieci cioè la manola ha catalogato a dieci eventi accadranno anche altre cose probabilmente tuttavia quelli rivelati saranno appunto i più importanti e più significativi potrebbero riguardare anche la chiesa e i suoi luoghi sacri ci rasserene il fatto che la madonna ben conoscendo la volontà del maligno di distruggere il mondo e la chiesa ha preparato un piano di salvezza che con il nostro aiuto si realizzerà vittoriosamente quindi impegniamoci con decisione alla battaglia con serenità con la consapevolezza che la madonna può ottenere ma Dio tutto quello che lei come madre intende chiedere quindi chiediamo e facciamo ecco cari amici questo era due capitoli molto importanti però ce ne saranno altri due che riguardano i segreti che faremo prossimamente allora il libro è Apostoli di Maria potete ordinarlo con WhatsApp 031 610 610 mettete nome e cognome indirizzo il titolo del libro il numero di telefono su WhatsApp poi potete ordinarlo con l'indirizzo email info.itra.maria.org attraverso il sito radiumaria.it cliccando catalogo e poi telefono all'ufficio informazioni 031 610 600 e poi cari amici negli store online come sapete e poi anche nelle librerie specialmente quelle cattoliche con questo abbiamo terminato ringraziamo Dio di tutto alla prossima volta e poi la prossima volta